Il regalo. Questo è il nostro nemico. Voi avrete voglia di scartarlo per poterci giocare. Ma non dovete! Se riuscite a superare il regalo, l'unico ostacolo che rimane è... il biscotto. Guardatelo in tutto il suo rosso e zuccheroso splendore. No, no, no! Dovete controllarvi! Disciplina! Noi dobbiamo... Resistere. Questi eccessi e sciocchezze erano solo avidità. Per roba senza senso, di totale inutilità. Sì. Il Grinch si mise al lavoro. I doni strappò via. Una corsa contro il tempo e contro l'allegria. Ci fu qualche intoppo capitato lì per lì. Un gatto rosso arrabbiato. E un sonnambulo chi? Grazie, mammina. Sai che ti dico? Se vuoi scusarti per qualcosa, devi scusarti per... quello! Mi squaglia le pupille. Beh, non dia la colpa a me. Non ha sentito? La sindaca vuole un Natale tre volte più grande quest'anno. Significa tre volte le luci, tre volte lo zabaione, tre volte... Le informazioni richieste. Questa è buona. Ho capito. Questo è un altro dei tuoi scherzetti. Finalmente sei riuscito a dire qualcosa di appena divertente. Sì, io scherzo molto, ma no. Il Natale è tre volte più grande. Ma la diverte tantissimo questa storia, vero? Devo dire che è una grande gioia vederla ridere. Io non parlo il ridicolese. Oh, sei uno spasso. Buona vita, addio. Da dopo. Oggi è stato fantastico. Abbiamo commesso cattive azioni e l'abbiamo fatto con grande stile. Max, conosci le regole. Tu dormi nel tuo letto e io dormo nel... No, no, anche tu non è possibile. Ma gli hai insegnato tu a fare gli occhioni. Forza. Stavolta è basta. Buon Natale a lei! Lei è cattivo, signore. So che cosa fare. Mi inventerò un modo per ruvare il loro Natale. Ammirate il biscotto. Questo è il nostro nemico. No, 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 no. Noi dobbiamo... Resistere. Faremo cadere la slitta dal tetto, ok? Forza, truppa! È la neve più rumorosa che abbia mai sentito in vita mia. Se devo diventare Papo Natale, devo prima entrare nel personaggio. La storia è la storia. È l'ora X. L'ora X. L'ora X, sì, è un hostil. Max, ti ho promosso. Sarai tu a tirare la mia slitta stanotte. Ma cos'è? Max? Sì, Max! Il Grinch. Max, conosci le regole. Tu dormi nel tuo letto e io dormo nel. Gli hai insegnato tu a fare gli occhioni. Su, dai. Sì. 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 Sì.